E' stato presentato oggi a Catania, così come nel resto d'Italia, il calendario 2013 dell'Arma dei Carabinieri dedicato al terzo cinquantennio della storia dell'arma, che si prepara a festeggiare nel 2014 200 anni dalla sua fondazione. In particolar modo la nuova edizione è stata incentrata sullo cinquantennio 1914-1964, un calendario significativo che insiste sul valore fondante dell'istituzione, ha detto il comandante Etneo Giuseppe Lagala, un calendario che insiste soprattutto nella solidarietà, valore che guida i carabinieri nel suo lavoro quotidiano. E in questo terzo cinquantennio sono tante le azioni che hanno visto i carabinieri spendersi per la cittadinanza, azioni ripercorse nelle immagini del calendario. Ed infatti, come ha ricordato il colonnello, si è trattato di un periodo molto significativo per la storia, con le due guerre mondiali, il sacrificio di salvo d'acquisto nel 1943 e la ricostruzione della dopoguerra. E poi un ricordo va anche, grazie a una delle tavole più significative, a quattro carabinieri che hanno sacrificato la loro vita pur di salvare gli italiani di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale. Oggi è l'occasione di presentare il calendario per i valori che in esso sono stati voluti trasfondere appunto da parte del comandante generale, come avete potuto vedere nella presentazione. Chiaramente è anche un momento di chiusura, un momento di riflessione per tutti, per vedere quello che è stato fatto di buono e quello che ancora si potrà fare per aiutare la comunità a cui ci dedichiamo, dedichiamo tutto il nostro impegno. Lei ha detto un calendario fondato sulla solidarietà che è poi il valore che contrandistingue il lavoro dei carabinieri, se deve tracciare un bilancio appunto dell'anno appena passato o quale è l'azione che ricorda più volentieri del suo comando Etneo? Il problema delle azioni, ricordo sempre con piacere le più piccole, i primi interventi quando risolviamo anche piccoli casi che possono sembrare come la rapina in abitazione degli anziani o il furto, la risoluzione del furto e dell'oro in casa di persone che magari avevano solo quello di valore oltre che venale anche affettivo. Quindi direi che sono una miriade di questi interventi. C'è tanta attività, tanto impegno da parte di tutti. Quello che cerchiamo di dedicare è dare sicurezza, dare una sensazione di sicurezza in un momento in cui purtroppo le forme di aggressione alla sicurezza, alla tranquillità della gente si moltiplicano in maniera esponenziale.